E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video Raga, la conferenza riga è ancora in corso perché c'è magari Tel Aviv o l'Olimpia in corso Sarà un secondo tempo supplementare ma ormai l'Olimpia in corso è nei tempi supplementare Che ha fatto altri due gol, sei vantaggio di due Per cui, i sorti ce li facciamo comunque Allora, adesso c'era Fiorentino Se no, non me ne fregava di facciolo, ma ne direttamente Le squadre qualificate sono Vittorio Apulzena, Fenerbahce, Poc Fiorentino, Aston Villa, Bruges, Lille E una trama che abita da vivo e Olimpia Pass Allora, Fiorentino, la Fenerbahce per me da invitare è Aston Villa e Lille Per me prenderà il Poc Andiamo a vedere subito E vi ricordo di iscrivervi per queste cose, magari di sorteggino, anche di domani Olimpia Pass Aston Villa Lo so, la mia scrittura fa sempre questo Contro la Vicente Trama, cambi della più in Pia Cossa E un po' in più E in più l'ho fatto anche adesso perché intanto ormai tutte possiamo affrontare tutte Per cui Lille Se sono così lungo ho scritto Lille In piccolo Vittorio Apulzena Poi ho scritto Vittoria con la T invece che con la K Fiorentina E poi ho scritto Vittoria con la T invece che con la T invece che con la T invece che con la T invece è un po' in più l'altro E poi ho scritto Vittoria con la T invece che con la T invece è un po' in più l'altro E poi ho scritto Vittoria con la T invece che con la T invece è un po' in più l'altro E poi ho scritto Vittoria con la T invece che con la T invece è un po' in più l'altro Grazie a tutti